pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa ventitresima domenica incontriamo un testo significativo inerente ai rapporti fraterni nella comunità cristiana tra le varie indicazioni ecco quelle del vangelo di oggi la correzione fraterna l'autorità della chiesa a cui dato potere di legare sciogliere quindi la potenza della preghiera fatta insieme noi ci soffermeremo in particolare sul tema della correzione fraterna parlando di correzione fraterna partendo così da un aspetto in generale possiamo dire che a volte la sua importanza è un po trascurata eppure la chiesa la annoverata tra le sette opere di misericordia spirituale ammonire i peccatori proprio per dirci che saper dire le cose saper correggere e anche diciamo lasciarsi correggere è un'opera di carità quante volte si tace purtroppo per il quieto vivere per paura che l'altro se la prenda male per salvaguardare noi stessi o meglio si tace con il diretto interessato ma si parla anzi se ne sparla con tutti gli altri ed ecco così espertoni di taglio e cucito linguacciuti tremendi che sfasciano le comunità le famiglie e le amicizie quanti problemi nella vita a causa del non saper parlare chiaro del dire non dire dire mezze cose tacere e gorgogliare nell'interno insomma che grazia che sapienza quanta bellezza nel saper dire senza aggredire nel saper dire la verità con carità sì perché sono due sorelle se le separiamo facciamo disastri la verità senza la carità è come una spada che trafigge la carità senza verità è buonismo sterile andiamo al testo matteo organizza le parole del signore secondo una precisa gradualità non si tratta di tappe giuridiche da seguire pedissequamente con freddezza e legalismo ma ci vuol far comprendere la gradualità che deve essere intrisa di carità e di delicatezza e di tatto per cercare di recuperare l'altro infatti ciò che conta non è tanto spiattellare gli altri le cose ma aiutarli a prendere consapevolezza se io non prendo consapevolezza del male commesso come potrò cambiare come potrò ravvedermi quindi gesù da che cosa parte parte dal dirci se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te che bello matteo chiama i cristiani fratelli potremmo dunque dire che la correzione fraterna è definibile anche fraterna correzione perché perché prima della correzione viene la fraternità cioè il sentirmi fratello dell'altro sant'agostino parlando della correzione diceva tutto parta dalla carità e tenda alla carità cioè noi non dobbiamo fare i giustizieri della notte che arrivano per abbattere riprendere con fredda durezza no noi siamo chiamati ad essere fratelli e sorelle gli uni degli altri cercando di volerci bene di recuperarci quando imbocchiamo strade sbagliate qui non c'è l'orgoglio da difendere ma un fratello da guadagnare gli vai incontro perché gli vuoi bene hai a cuore la sua salvezza e cerchi di aiutarlo sì il rimprovero cristiano non è motivato e animato da spirito di condanna o recriminazione ma è mosso dalla sollicitudine per il bene dell'altro quindi prima di correggere qualcuno sarebbe bene vagliare bene i sentimenti e le motivazioni che ci spingono a volerlo correggere per difendere l'orgoglio ferito per fargliela vedere per spiattellargli in faccia le cose o per aiutarlo per cercare di farlo crescere nella via del bene allora se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te quindi vuol dire se uno sbaglia realmente cioè qui non è che vado e dico che secondo me è sbagliato ma senza alcun fondamento qui si parla di una colpa in ebraico il peccato significa ciò che è fallimento ciò che mi fa fallire il vero bene ciò che secondo la parola di dio non è bene se un tuo fratello commetterà dunque una colpa contro di te che non vuol dire solo contro di te personalmente ma contro di te cristiano cioè contro di te contro la comunità contro il vero bene vai e ammoniscilo fra te e lui solo ecco il primo passaggio stabilisci un dialogo personale dagli modo di spiegarsi qui mi viene in mente un suggerimento pratico è sempre bene partire da una domanda cioè perché hai fatto questa cosa cosa ti è successo è importante sempre dar modo all'altra persona di spiegare di manifestare di non sentirsi attaccata o giudicata ma di sentirsi voluta bene di dargli modo di aprire il suo cuore e allora una volta che parto dall'ascolto do modo anche all'altro di spiegarsi posso cercare di aiutare la persona a prender consapevolezza del male che ha commesso così uno sarà motivato al cambiamento vi ripeto il fine è il recupero della persona e che belle le parole che seguono di gesù se ti ascolterà avrai guadagnato il fratello qui si parla di guadagno non di soldi ma di anime san giacomo dice che chi riporta un suo fratello dalla via della menzogna quella delle a verità salva se stesso e copre una moltitudine di peccati evita che si propaghi tanto male nella vita di questa persona di chi le sta vicino pensate la correzione talmente importante che san giovanni bosco diceva se non hai un amico che ti corregga paga un nemico perché ti renda questo servizio quindi si parte dal confronto personale ma ci potrebbe essere il caso in cui la persona non ascolta e allora ecco gli altri step che ci propone gesù se non ascolterà prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni cioè coinvolgi qualcun altro perché insieme si possa aiutare quella persona che è irretita nel male che non è convinta che magari si chiude orgogliosamente a capire che sta davvero percorrendo una via sbagliata allora non te lo dico da solo ma insieme a due tre persone due tre fratelli e sorelle di comunità per aiutarti a prendere consapevolezza di te anch'essi dunque sono chiamati a intervenire per aiutare la persona a capire che realmente sta sbagliando cioè il punto non è che ad esempio se io sto correggendo qualcuno parlo sempre solo io ma questa volta in compagna di due tre no i due tre servono ad aiutare il fratello la sorella a comprendere che il suo modo di parlare o di fare di agire è sbagliato e quindi ci prendiamo cura di lui cercando di correggerlo insieme per aiutarlo a ravvedersi vedete potremmo dire che si comprende meglio questo discorso se facciamo esperienza di chiesa di comunità se in chiesa non andiamo mai o se andiamo soltanto alla messa domenicale versione benzinaio dove attingo faccio il pieno e scappo mi viene un po difficile capire questi passaggi perché gli altri per me sono i meriti sconosciuti ma qui Matteo sta parlando delle comunità che camminano insieme quindi l'eucaristia è il momento culmine dove si incontra insieme Gesù ma poi si cammina ci sono momenti formativi uscite insieme momenti di condivisione di incontro cioè c'è una vita di comunità non è detto che però la persona ascolti e allora ecco l'ultimo passaggio se poi non ascolterà costoro dillo alla comunità l'ultimo atto quindi parlarne con tutta la comunità in modo tale che la persona definitivamente possa davvero mettersi in ascolto cioè guarda te l'ho detto io non ti basta te lo diciamo due tre non ascolti vediamo se era con tutta la comunità apri le orecchie il cuore quindi qui è tutta la comunità che chiaramente con amorevolezza cerca di aiutare il fratello la sorella ravvedersi a prendere coscienza che il suo modo di parlare di fare di agire è sbagliato se non ascolterà neanche la comunità dice Gesù sia per te come il pagano e il pubblicano Gesù ha amato anche i pubblicani e pagani quindi vuol dire continua volergli bene ma dissociati dal suo modo di agire tieni conto che in questo momento in certe cose non ci può essere una comunione piena quindi a livello pratico cosa significherà ovviamente bisognerebbe vedere caso per caso ma mettere in atto tutti quei passaggi tutti quei processi perché la persona sia messa in condizione di capire che con questo suo modo di agire si sta auto escludendo dalla comunione con dio e con gli altri san paolo ad esempio in una delle sue lettere arriva persino a invitare una comunità a prendere le distanze da una persona ad interrompere i rapporti con essa ma non con astio o con rancore ma pregando per essa continuando a volergli bene perché possa ravvedersi questo non significa buttare a mare qualcuno o tagliare i ponti significa mettere in atto tutto ciò che può servire alla persona a ravvedersi e custodire anche la comunità la chiesa nei casi estremi arriva persino alla scomunica o a sospendere determinate persone da determinati servizi sempre con una finalità pedagogica mai meramente punitiva né tantomeno a modi sentenza senza appello ma proprio per aiutare la persona ravvedersi e lasciarsi salvare in conclusione miei cari è bello chiedersi e se fossi io a dover essere corretto quando gli altri correggono me io come reagisco o meglio come agisco quanto umiltà ci vuole nell'accettare la correzione convinti come siamo della nostra perfezione altre volte presi e preoccupati di difendere il nostro ego la nostra immagine è proprio qui quando veniamo corretti che si vede a che punto siamo con l'umiltà e la maturità come diceva un autore del secondo secolo non alteriamoci non indigniamoci quando qualcuno ci riprende se ci offendessimo saremmo degli stolti la correzione infatti ha lo scopo di farci passare dal male alla via della santità che il signore ci aiuti a riscoprire il valore della correzione sia fatta che ricevuta un'opera di carità meravigliosa che il buon dio vi benedica tutti pace e bene